Io quando ho incontrato Mancini e gli ho chiesto un'opinione sull'europeo, mi era sembrato molto ottimista. Io scaramanticamente non l'ho mai detto, però evidentemente lui aveva visto già dall'inizio le potenzialità di questa squadra, del gruppo, e sapeva che il gruppo sarebbe cresciuto. Poi oggettivamente, al di là di tutto quello che noi possiamo raccontarci, la verità è che la squadra è cresciuta molto e è stata una squadra più continua. L'Italia non è che ha vinto a caso, ha sofferto con la Spagna, ma in tutte le altre partite ha dimostrato padronanza del gioco, senso di squadra, i cambi. E credo che la mano del commissionario tecnico, non lo dico perché è marchigiano e perché è il nostro testimonial, lo dico perché bisognerebbe, secondo me, sempre dire rendere onore e rendere merito al lavoro di chi sa anche ottenere un risultato. Credo che si sia vista il senso proprio di appartenenza a un gruppo dove chi giocava ha dato sempre il massimo.